La gara riservata agli esordenti di primo anno Siamo nell'ordine dei quarentici secondi La gara riserva ad un corrido di casa e non cambia il problema Non è che è il passaggio Non è che non cambia il passaggio E' il passaggio di Stati Dio ai pupimi Cordure E noi E' davantissimo E' stato politico Questa vittoria Non so quando ne prima Ho fatto un corrido di casa ma ha fatto tutto E infatti con la niente Sì, ma è un corridore che comunque va molto sottopio perché... Segurienti, secondo anno. Il nuovo cagliari cerca di andarsene 14 secondi per riazionare la dimensione. Fasi finali. Per l'unico Paranga, falso corti in caglianesco, terza vittoria stazionale. Vai Guglielmo, vai Guglielmo! Per l'unico Paranga, l'unico Paranga! Va Guglielmo, vai Guglielmo! Abirgir! Abirgir! Il strolo anche da fondos. In attesa di controllo antitrofili.